musica bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono Xyuder e ragazzi siamo ancora su Rush Wars ci sto capendo un pochettino le meccaniche giocare le truppe splittate utilizzare bene i pitcher, utilizzare gli hotshot che hanno assolutamente molta potenza dietro ai tank però oggi insieme a un paio di partite volevo fare l'unboxing volevo aprire ragazzi il bauletto raro perché quando trovo quelli rari io li apro insieme a voi che magari mi portate un po' di fortuna quindi andiamo ad aprire il baulozzo ragazzi attenzione vediamo cosa c'è dentro dai eh 89 di gold buono buono arrivano 3 shield mi piace arrivano 3 cannoni da potenziare per le difese 5 arcade non li uso oh arriva la cura che si può potenziare arriva il tank arriva il tank non male ragazzi non male allora io non so se voi utilizzate il tank oppure no ha veramente un fottio di vita ragazzi ma direi che ci apriamo anche anzi prima ci facciamo una partita poi ci apriamo anche il bauletto o maggello va diamo una cosa potenzierei la cura che secondo me ci sta potenziare 150 per la cura no aspetti ah piano 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 quanto mi costa potenziare il tank eh però mi va 1200 di heal il tank e come danno fa 115 il gorillone come danno eh sti cazzi fa 150 no 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 andiamo avanti con una tecnica che mi stava piacendo due di questi due shield due pitcher e due shots non con la cura però ma con la furia andiamo a provare poi ci apriamo il bauletto quello quello facile e easy quello facile e easy dai vediamo un pochettino contro Martos 756 del clan Maxanata allora i diti nel culo ragazzi purtroppo sono i mortai mortai c'è ben poco da fare se io provo a fare uno split prima mi è venuta bene la partita con lo split facciamoci una prova vai vediamo cosa succede dobbiamo stare attento al tizio che lasera io potrei potenziare questi infurio questi per il tizio che lasera no vanno direttamente sul municipio attenzione ok ok gli abbiamo fatto un municipio cioè una torretta una miniera via anche la seconda miniera e qua purtroppo andiamo a perla ma voi ragazzi fate sempre le tre corone fate mica io non riesco a fare le tre corone raga cioè il mortaio è una manata proprio assurda comunque due stelline ce le portiamo proprio via facili facili aia 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 c'è un altro box fra poco magari lo vediamo insieme e andiamo a recuperare anche il le stelline per la difesa della della nostra miniera ci apriamo il baule quello free vediamo un po' il free box dai 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 53 di gold buono buono arrivano sei troupe che non uso oh bello shot è ancora un tank non li uso i tank non li uso diamine non li uso facciamo un altro attacco per vedere se riusciamo a fargli ragazzi se riusciamo a fargli le due torri nuovo baule e poi ci salutiamo fare che cosa stai facendo ok last squad così la utilizziamo di nuovo tra l'altro questa mattina sono andati in manutenzione i server ma non hanno detto il perché appena saprò qualcosa ve lo comunicherò anche a voi mi piace la storia di splittare perché ci sta un botto secondo me così il mortaio attacca solo una parte attacca questo ha il tank al 2 non riusciamo a prenderle purtroppo non è che si riuniscono di qua attenziamo a queste dai 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 giù la prima miniera tutti sul tank tutti sul tank attenzione giù il tank si buono 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 guarda il pitcher guarda il pitcher guarda il pitcher Piccialo, 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 piccialo al mortaio. Andiamo a chiuderla. Andiamo a chiuderla. Grande vittoria. Grande vittoria. Grande. Molto bene. Molto bene. Ci apriamo il baule. Epico. Baule epico. Baule epico. Baule epico, please. Ed è un baule comune. Va bene, va bene, va bene. Lo vediamo ugualmente. Andiamo a dare un'occhiata. 45 di gold. La mina interessante per le difese. Ancora le truppe. I soldati, i troopers e gli idraulici. Niente di esagerato. Insomma, ragazzi, vi ricordo che ho il clan. Il mio clan. I suini di Xyud si chiama. Vediamo se riesco a farvi vedere il clan. Eccolo qua. Dove c'è gente? A 1600. Però vabbè. Vi ringrazio per aver guardato quest'altro video di Rush Wars. Se vi piace, un bel pollicione in su. Iscrivetevi al canale. Come sempre, non ho ancora pronta l'outro. Quindi, ragazzi, vi subite quella di Fortnite. Noi ci vediamo poi. Anzi, siamo su Twitchy Live con Rush Wars. Ciao!